Nella puntata odierna approfondiremo la figura di Angelo Ermanno Cammarata, filosofo del diritto, giurista e rettore dell'Università degli Studi di Trieste fra il 1946 e il 1952. Lo faremo seguendo il volume Angelo Ermanno Cammarata, appunti per una biografia. Edito da Editoriale Scientifica Napoli, l'autrice Marily Cammarata, figlia di Angelo Ermanno Cammarata, è con noi in studio. Buon pomeriggio e benvenuta. Grazie, anche a voi. Assieme a Marily Cammarata, Lorenzo Jelen, ricercatore storico, co-curatore della mostra 1924-2024, un secolo di storia dell'Università degli Studi di Trieste, immagini e documenti. Benvenuto. Grazie. Cominciamo allora con l'autrice Marily Cammarata. Da cosa nasce materialmente questo volume di appunti per una biografia? Nasce da un ritrovamento del tutto fortuito di due scatole, due scatole da camicie da uomo, per essere più precisi, che erano rimaste nascoste in una libreria, dove io ho ritrovato un bel malloppo di lettere, scritte a mio padre, tra il 1915 e la fine degli anni Sessanta, con i più svariati mittenti, di alcuni dei quali conoscevo solo il nome, altri li conoscevo di persona, e quindi mi sono incuriosita. Cioè, è sempre molto delicato intervenire nella corrispondenza altrui. Però, diciamo, io avevo una giustificazione, cioè che mio padre è morto e che io non avevo vent'anni, quindi l'ho conosciuto molto poco. E devo dire che queste lettere, che erano sia di familiari che di amici che di colleghi, mi hanno dato un'immagine che io altrimenti non avrei mai potuto neanche supporre. Ecco, e quindi intanto ho cominciato a mettere a posto questo mare magnum di lettere in disordine. Dopo mi è venuta voglia di saperne di più di quest'uomo. E siccome quella volta, nel 1999, a Trieste, c'erano ancora molte persone vive che lo conoscevano, che l'avevano conosciuto, a questo punto le ho intervistate. e ho avuto l'occasione di conoscere una persona assolutamente speciale, che era Domenico Maltese, ex capo della procura di Trieste, se non ricordo male. Comunque una persona eccezionale. E altri invece li conoscevo, il professor Cervani, il dottor Crise, il dottor, no, Crise era già morto, il dottor Stasi, ho trovato qualcuno anche a Roma, che l'aveva conosciuto da giovane. Quindi diciamo che intervistando queste persone e unendole ai miei ricordi, a una parte dei ricordi di mia madre e a queste lettere, ecco che ho potuto cominciare a mettere insieme qualcosa che assomigliasse a un percorso biografico. E così nascono appunto gli appunti per una biografia. Sì, perché sono cose messe insieme nel tempo, io ci ho messo 25 anni a scrivere questo libro, e fino all'ultimo ho potuto aggiungere, correggere, perché venivano fuori, o da altri libri, o da internet, o da altre cose, correzioni, aggiunte, ricordi, che tante volte uno ha il ricordo, del flash e poi se lo dimentica. E quindi bisogna scriverlo subito. E quindi, ecco, ci sono avuti 25 anni per mettere insieme questo libro. Marilica Marata, le origini del filosofo del diritto e rettore dell'Università di Trieste. Noi ci concentreremo nel corso della puntata principalmente sull'esperienza triestina. Ma da dove parte la carriera e appunto l'origine? Allora, la carriera parte da Catania, ovviamente, perché, nato a Catania nel 99, tra l'altro con un percorso scolastico da genietto, nel senso che finisce il liceo a 16 anni, e conseguentemente a 20 anni è laureato, cosa che oggi non si potrebbe più fare, e però non si laurea a Catania, ma a Pisa, dove in quel momento avrebbe dovuto insegnare Giovanni Gentile, che è stato uno dei suoi maestri più importanti, per quanto non seguito pedisseguamente. Cioè, è un gentiliano, siamo d'accordo, però critico, nel senso che lui è andato oltre l'idealismo di Gentile, pur non rinnegandolo mai. Quindi, parte da Catania, Pisa, poi torna a Catania per fare l'avvocato nello studio di suo padre, poi va a Milano, sempre per fare l'avvocato, ma sempre con un occhio all'università, e quindi ai concorsi, ovviamente, il più importante dei quali viene bocciato. E in cattedra, alla cattedra di Catania, ci va un suo amico, e quindi non può neanche, come si dice, mandarlo a quel paese perché è un amico. Però ne tenta degli altri, ovviamente, con più o meno fortuna, nel senso che, pur essendoci nelle commissioni d'esame, persone che lo conoscono, in realtà, non piace la sua indipendenza. Cioè, è uno che prende la tessera del partito nel 34, perché se no, lo sbattevano fuori dall'università, e lui aveva bisogno del pane. Ecco. Però, non ha mai fatto atto di sottomissione, e soprattutto, quello che stava per costargli caro, credo, il fatto che in aula chiamasse il duce, il truce, per cui, insomma, non è che proprio fosse così. E questa sua indipendenza, e soprattutto, il fatto che, comunque, gentile, gli volesse bene, è una cosa che non gli ha giovato. Per cui, con lui non sono servite le raccomandazioni, lui si è fatto strada da solo. Questa è la cosa fondamentale. per cui, è sempre andato a testa alta, e via. Quindi, queste sono le sue prime, che cosa fa? Allora, vince, cioè, lo mandano a Messina, poi da Messina lo mandano a Macerata. A Macerata ci sta 5-6 anni, che però, per uno come lui, Macerata è onestamente un po' stretta. per cui, grazie, in questo caso, invece, agli amici, viene mandato a Trieste, ma non per insegnare filosofia del diritto, bensì, dottrina dello Stato o qualcosa del genere. Comunque, non filosofia del diritto. Filosofia del diritto potrà cominciare a insegnarla l'anno dopo, quando viene creata dal nulla la facoltà di giurisprudenza. Mettiamo un punto all'arrivo di Angelo Ermanno Cammarata nel capoluogo Giuliano, 1937, insegnerà poi filosofia del diritto nel 1939. Lorenzo Jelen, ricercatore storico, potremmo intanto chiederle come ha incontrato la figura di Angelo Ermanno Cammarata nelle sue ricerche e poi chiederle un ritratto dell'Università Triestina alla fine degli anni 30. Cominciamo dall'incontro. Cominciamo dall'incontro. Allora, il primo incontro è avvenuto ormai molto tempo fa, una quindicina di anni fa stavo preparando la tesi di dottorato sul governo militare alleato e ho incontrato Cammarata appunto nelle parole di quello che poi nel 1947 sarebbe diventato il suo avversario cioè il capo del governo militare alleato che poi lo avrebbe rimosso dall'incarico ma su questo torneremo dopo. Dopo una lunga parentesi appunto in cui Cammarata è tornato nell'oblio finalmente mi sono appunto ho avuto modo di incontrarlo nel corso delle ricerche propedeutiche alla creazione prima di una mostra virtuale sulla storia dell'Ateneo e poi appunto della mostra di una mostra fisica che è tuttora visitabile al castello di San Giusto e ovviamente il periodo coperto della ricerca era molto ampio e si trattava per lo più di una mostra per immagini quindi l'obiettivo principale era trovare piccoli documenti o comunque soprattutto immagini ed è questo anche che mi ha portato a incontrare l'autrice perché appunto grazie a precedenti pubblicazioni sapevo che Cammarata ma anche di questo immagino parleremo più avanti era un fotografo amatoriale di talento e quindi appunto alla ricerca disperata di immagini che rappresentassero l'università e lo stesso rettore nel periodo in cui appunto aveva insegnato a Trieste mi ha portato appunto alla sua porta e a a conoscerla parlando di fotografia approfittando di questo di questo accenno una fotografia a Jelen dell'università dell'Ateneo Triestino alla fine degli anni 30 l'Ateneo che Angela Ermanno Cammarata incontra al suo arrivo allora l'Ateneo del 37 l'Ateneo Triestino è un piccolo Ateneo di provincia di confine di recente formazione l'università degli studi di Trieste viene fondata infatti nell'agosto del 1924 sul nucleo preesistente dell'istituto superiore di studi economici e commerciali che a sua volta altro non era che la vecchia scuola di commercio di fondazione Revoltella costituita per l'ascito testamentario del barone è una università ancora monofacoltà quindi ha solo la facoltà di economia e commercio i docenti di Trieste tutta l'intelligenza riunita attorno all'università per anni insistentemente cerca di promuovere l'Ateneo di far sì che appunto possa ampliarsi cercano di si inventano dei vari modi in cui appunto l'Ateneo Triestino possa risultare appetibile a Roma e possa ottenere finalmente l'avanzamento di grado e l'ampliamento però l'Ateneo Triestino deve comunque scontare il fatto di essere un nuovo arrivato in un'area in cui grava pesante la presenza dell'Ateneo di Padova e quindi anche nel sistema universitario italiano una nuova arrivata fa difficoltà appunto a trovare il suo spazio oggi molti hanno in mente l'immagine dell'edificio principale dell'università degli studi di Trieste ma all'epoca alla fine degli anni 30 qual era la sede? la sede era la sede di via università 7 l'edificio è tuttora esistente attualmente è chiuso e all'epoca si era anche allargata con alcune aule che davano sul confinante edificio di via lazzaretto 12 però quella è il nucleo originario dell'università perciò parliamo dell'area finale delle rive triestine sopra Campomarzio le parallele delle rive via dell'università esattamente davanti al circolo ufficiali Lorenzo Jelen Marili Cammarata noi continueremo dopo un breve intermezzo musicale a scoprire la figura di Angelo Ermanno Cammarata soffermandoci sul suo rapporto con la città di Trieste a tra poco Marili Cammarata all'interno del volume Angelo Ermanno Cammarata appunti per una biografia che ricordiamo è edito da Editoriale Scientifica di Napoli c'è una poesia di suo padre che si ricollega a quanto Lorenzo Jelen ci ha appena raccontato ovvero fotografa dal suo punto di vista la situazione dell'Ateneo dell'Ateneo Giuliano non è scritta da lui è scritta da Bettiol ma è scritta è dedicata a lui ecco leggendo leggendo alcuni versi col suo permesso se possiamo nella nuova facoltà molto bene non si sta quasi sono più i docenti che gli alunni diligenti le lezioni in tre aulette pochi libri in due stanzette nelle quali tu non fai che assistere al via vai nella nostra facoltà molto bene non si sta tanto è ver che la metà spesso a Roma se ne va prosegue poi la poesia ma appunto ci conferma quanto appena raccontato da Jelen suo padre come docente che persona era il cammarata docente? allora il cammarata docente era per quell'epoca sicuramente all'avanguardia nel senso che non amava il nozionismo preferiva il dialogo e questo a quei tempi non è che fosse molto in voga aveva era democratico ma non populista democratico nel senso che non faceva distinzioni tra le persone e tra gli allievi quindi la sua porta era aperta a chiunque quindi questo è sicuramente un dato un po' nuovo per l'università e anche per Trieste che invece è una città molto chiusa molto 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 settoriale ecco diciamo così e quindi da questo punto di vista sicuramente è stato un rompighiaccio se vogliamo però ecco ha avuto subito la come dire l'appoggio degli altri dei colleghi professori ovviamente e anche gli studenti bisogna dire la verità da quel poco che risulta dai documenti gli volevano bene proprio perché era uno che non si dava arie che non solo ma era il primo Goliarda era proprio lui cioè se c'era uno che faceva scherzi era lui quindi immaginarsi con i ragazzi come poteva andare d'accordo però con una distinzione l'università è sacra è stato è lo stato e non si deroga si va in giacca e cravatta punto poi fuori dall'università si può fare di tutto e di più e questo è una cosa che è stata sempre molto apprezzata non l'ha fatto solo a Trieste l'ha fatto anche che poi quando è andata a Napoli a Napoli le sue lezioni si svolgevano al bar che insomma anche lì anni 60 50 non è che fosse proprio una cosa di tutti i giorni e quindi e tra l'altro io per motivi che qui non posso dire ho conosciuto una ex bidella dell'università che mi ha detto che lo chiamavano zio cioè chiamare un professore zio o poi un rettore zio significa che ha avuto la possibilità di farsi conoscere e di dialogare ecco non credo che i suoi successori siano stati mai chiamati zio e neanche i predecessori quindi questa è la cosa che a me risulta questo è il docente cammarata docente appunto che arriva a trieste nel 1937 com'è il rapporto con la città non con l'università ma con la città stessa con la città è un rapporto mediato dalla macchina fotografica anzi dalle macchine fotografiche perché non ne ha mai meno di due una per tasca per cui fumando e fotografando lui si gira la città ecco questa è la questione e ovviamente da buon siculo non solo fotografando ma anche occhieggiando la bella gioventù triestina e questo è quello che io posso dire e si fa ovviamente i primi amici anche fuori dall'università oltre che dentro perché poi da amico nasce amico cioè le conoscenze poi vanno avanti e ci sono persone che con cui rimane amico tutta la vita a cominciare per esempio dall'avvocato Amigoni con cui nel cui studio per un certo periodo anche lavora come avvocato Stelio Crise che poi diventerà il diretto creatore e direttore della biblioteca dell'università anche lì c'è come dire un affiatamento per cui Crise è il primo che arruola gli studenti per tenere aperta la biblioteca il più possibile quindi il volontariato anche quello non era una cosa che a quei tempi si usava quindi ci sono state momenti dirompenti nella sua vita universitaria triestina sia prima come docente che poi come rettore nel 1946 diventa rettore Angela Ermanno Cammarata nel 1946 la città vede il governo militare alleato che rapporto c'è fra Cammarata e il GMA diciamo che è sempre stato un rapporto piuttosto come dire turbolento perché mio padre da un punto di vista culturale e politico non ha è sempre stato un liberale quindi né filo americano né anticomunista pensava con la sua testa ecco mettiamola così e c'erano delle cose degli americani che erano veramente molto lontane dal dal modo di vivere degli italiani e quindi ci sono state delle degli screzi ovviamente anche perché le persone che gli italiani che afferivano al GMA da un punto di vista giuridico non erano sempre all'altezza e questo lui lo scopriva subito non faccio nomi perché non è il caso però ci sono stati degli scontri iniziali per di più il responsabile del GMA per quanto riguardava l'istruzione quindi sia la scuola che l'università era un adesso potremmo dire un giovane un po' presuntuoso se vogliamo sicuramente una persona intelligente e colta però che aveva quel tipico atteggiamento degli americani che ai colonizzati dà un po' fastidio per cui là anche si sono creati degli attriti che poi sono sfociati con il colonnello generale colonnello Bauman in un proprio in uno scontro diretto e Bauman ha preso una scusa che più banale non si può e l'ha defenestrato o quantomeno ha cercato di defenestrarlo nel senso che mio padre non se ne è dato per inteso e ha semplicemente ritirato la sua firma dagli atti ufficiali lasciando che il prorettore Oletto si prendesse tutte le rogne praticamente però la cosa ha creato un vespaio ovviamente perché mio padre ormai era ben conosciuto era molto stimato e questo ficcare il naso degli americani in tutto e per tutto non andava molto bene a molti per cui c'è stata la rivolta la famosa occupazione dell'università da parte degli studenti con il rettore ecco credo che ancora adesso nessun rettore abbia mai occupato l'università insieme agli studenti e sono passati quasi 80 anni lui invece si barrica in via dell'università a 7 con gli studenti e con fuori la military police che cercava di sfondare il portone per entrare e sa Dio cosa fare e questo è una cosa che non solo viene riportata dai giornali locali e nazionali ma arriva perfino in America e lì a Bauman vengono tirate le orecchie della serie vaccipiano vaccipiano perché comunque noi siamo ospiti in un certo senso e non abbiamo ancora concluso niente sul famoso territorio libero eccetera eccetera e quindi Bauman viene rimosso e al suo posto arriva Eirei che invece è intanto è inglese se non mi sbaglio non americano e quindi ha un altro savoir faire ovviamente per cui mio padre ritorna al suo posto e tutti amici come prima però a mio padre gli americani non sono mai stati molto simpatici non solo per la gomma americana e per i fumetti che a casa mia erano proibiti assolutamente proibiti ma proprio per questa questa mentalità di colonizzatori fondamentalmente non che gli piacesse Tito tutt'altro però lui ha cercato sempre di fondarsi sull'autonomia dell'università e sul fatto che il territorio libero di Trieste non è mai nato perché non è nato in governatore quindi poi si possono dire tante cose se ne sono dette anche in questi ultimi anni se ne sono dette tante sul territorio libero io non entro nel merito e nella discussione però effettivamente sono stati otto anni di di limbo di purgatorio di gente che non sapeva cosa fare cosa dire anche perché nel frattempo Tito aveva cambiato casacca e quindi non si sapeva chi dare Trieste e lui ha cercato di semplicemente di seguire le regole le leggi tutto qui e seguiva l'idea di un'università statale autonoma dal governo militare alleato Lorenzo Jelen nelle ricerche storiche che contesto che contesto emerge da entrambe le parti in questo contrasto che porta il governo militare alleato a chiedere le dimissioni del rettore dell'università triestina sì allora i primi due anni di occupazione sono degli anni diciamo diversi rispetto alla fase successiva e dal punto di vista politico e militare il governo militare alleato ovviamente è perfettamente interessato a tutelare l'integrità della zona A è pronto a difenderla con le armi contro qualsiasi tipo di attacco jugoslavo dal punto di vista politico a partire dalla fine del 46 e poi andando avanti nel 47 comincia a prendere forma quella che poi diventerà la declinazione locale della politica del containment quindi una volontà di contenere sistematicamente qualsiasi tipo di penetrazione comunista all'interno della zona A dal punto di vista culturale invece sull'onda appunto dell'immediato dopoguerra l'approccio è un approccio che potremmo definire paternalistico di stile un po' wilsoniano dedicato appunto alla rieducazione della democrazia visto in maniera appunto paternalistica americana che ovviamente dagli interessati poteva non essere dagli interessati poteva non essere vista molto bene e d'altra parte abbiamo appunto un tentativo di raddrizzamento dei torti operati dal fascismo nell'ambito in rapporto alla comunità slovena vi è una restituzione dei diritti negati vengono riaperte le scuole e si cerca appunto di mettere sullo stesso piano dal punto di vista culturale le due componenti nazionali che risiedono nella zona A e questo appunto da una parte dalla parte italiana può in certi casi non è percepito bene perché appunto viene visto come una una messa in discussione del carattere italiano che loro riconoscevano come carattere italiano dell'area per di più nel momento in cui appunto Bowman rimuove Camerata dall'incarico siamo nella fase immediatamente successiva alla firma del trattato di pace in cui gli alleati appunto stanno hanno ancora la volontà di curare una transizione verso questo TLT che hanno tanto faticosamente creato come compromesso e nel giro poi di qualche mese la situazione sarebbe cambiata e appunto sempre di più nell'ottica del containment sarebbero giunti alla risoluzione poi di boicottare in sede di consiglio di sicurezza ONU qualsiasi mossa russa a volta ad arrivare alla nomina del governatore quindi di fatto bloccando la vera creazione del TLT come stato indipendente però in questo momento ancora c'è questa volontà di riuscire a insomma transitare verso questa situazione di compromesso è il rappresentante di quello che è un'istituzione altamente simbolica ed è un punto di riferimento nazionale e soprattutto con appunto questo atteggiamento filo italiano viene visto non viene visto bene e guardando dai documenti del governo militare alleato appunto i motivi che vengono individuati per la rimozione di cammarata sono la malamministrazione che è questa cosa su cui torna anche Bowman nelle sue memorie e che non ha molto senso in realtà ma anche si parla di un accentramento dei poteri ma soprattutto di disobbedienza a istruzioni del GMA quindi appunto potrebbe esserci anche questa cosa dietro anzi sicuramente c'è appunto la volontà di rimuovere un rettore che in quel momento è scomodo diceva Marili Cammarata che la situazione viene affrontata da Angelo Ermanno Cammarata e rimane il rettore dal punto di vista delle ricerche storiche come cosa si può trovare sulla risoluzione di questo discorso della questione beh c'è un fascicolo tutto dedicato appunto alla rimozione con tutto lo scambio di corrispondenza tra Bowman e Cammarata e ovviamente tutto il dibattito che avviene all'interno dell'università relativo alla questione e di fatto appunto come diceva Marili nominalmente viene trovato un sostituto che in realtà viene nominato d'ufficio prima roletto e poi viene chiesto anche Luzzato Feciz di diventare lettore ma entrambi rifiutano dopo alla fine come soluzione di compromesso viene scelto Origone che poi sarà un altro lettore dell'università di Trieste e che appunto funge da insomma diciamo facente funzioni però di fatto senza una vera e fino al novembre al novembre 47 quando Cammarata viene reintegrato 1947 ci sono ancora cinque anni di rettorato di Angelo Ermanno Cammarata Marili Cammarata come si adopera suo padre per la costruzione ricostruzione e costruzione dell'università di Trieste Allora intanto vengono fatte create nuove facoltà con una precisazione che solo quelli del tempo sapevano mio padre non era favorevole alla creazione di facoltà scientifiche perché essendo una università di confine ed essendoci anche ovviamente studenti sloveni il suo timore era che il know italiano scientifico andasse a favore della parte slava slavo comunista che è una cosa che poi invece è stato superato quando è stata creata la Sissa allora a quel punto è stata una cosa internazionale e aveva tutto un altro significato però visto che nella compagine triestina erano molto influenti non tanti commercianti quanto gli industriali e coloro che avevano a che fare col porto e con le navi ecco che la facoltà di ingegneria che è stata creata è stata creata subito a indirizzo navale perché era quello che interessava alla città o quantomeno ai suoi maggiorenti la facoltà di lettere era stata creata diciamo nel 43 da Viora da un'idea di Viora non di mio padre e che però ci aveva messo la firma insieme a tanti altri e quindi diciamo che nel 50 quando viene finalmente il GMA lascia libera l'edificio dell'università di via Fabio Severo è possibile finalmente inaugurarla perlomeno nei suoi dati fondamentali poi ci sono da mettere a posto le stanze i laboratori tante cose però diciamo che con la con l'arredamento dell'aula magna tutto sommato si può anche dire che l'edificio è agibile perché tra l'altro durante la guerra erano spariti perfino gli infissi quindi e questo è una cosa che è stata studiata molto bene da Diana Barillari questo dover ricostruire perfino i telai delle finestre che erano spariti quindi diciamo che da quel punto di vista lì la sua opera è stata un'opera di ripristino dell'edificio e dell'attività universitaria Rettore fino al 1952 poi l'addio a Trieste che cosa ci può raccontare cosa emerge dai documenti che lei ha trovato e che riporta nel libro di questo addio di questa partenza dalla città allora intanto una cosa nel 50 quando c'è stata l'inaugurazione dell'aula magna è successo quel pandemonio che tutti sanno per cui professori e studenti sono venuti alle mani cosa che anche questa è un unicum credo nell'università italiana e gli viene rimproverato di non aver saputo tenere a bado gli uni e gli altri anche perché c'era un ministro dello stato italiano presente quindi insomma una brutta figura l'hanno fatta tutti onestamente e quindi non gli viene rinnovato tra l'altro io ho trovato dopo che è stato pubblicato il libro una lettera a Renato Treves a sociologo del diritto primo sociologo del diritto italiano in cui diceva non ne posso più non voglio più fare il rettore quindi tutto sommato che non l'abbiano rieletto a lui ha fatto anche piacere nel senso che non ne poteva più lui voleva insegnare e studiare la sua materia il problema era dove andare perché chiaramente non era il caso che rimanesse dentro l'università di Trieste e quindi è stato stato fatto uno scambio diciamo così tra un precario dell'università di Napoli Pietro Piovani e lui Piovani è venuto a Trieste e mio padre è andato a Napoli poi da Napoli altra sede piuttosto disagiata se vogliamo dirla gli ultimi anni li ha fatti a Roma ecco questo è qua l'addio a Trieste è stato un addio come posso dire buono affettuoso nel senso che appunto intanto ha lasciato il ricordo di una persona onesta fondamentalmente onesta con le mani pulite come si direbbe oggi e poi perché umanamente era una persona affabile ironico chiacchierone ecco bisogna dire quando attaccava a parlare di filosofia non staccava più e soprattutto quello che mi ha raccontato il professor Bartole che aveva l'abitudine di parlare camminando ma quando si impuntava si apriva la sigaretta e si piantava lì e non si muoveva più per cui una passeggiata di 500 metri durava due ore perché era un continuo fermarsi accendere la sigaretta eccetera eccetera ecco quindi voglio dire era un essere umano non era un superman ecco questo è quello che posso dire e che è rimasto poi ai suoi amici qua a Trieste di questa dimensione umana del docente del rettore del filosofo del diretto cammarata resta anche un archivio fotografico se ne faceva accenni in apertura a questa puntata cammarata fu grande appassionato di fotografia la fotografia a Trieste quali scatti furono i preferiti o che cosa fotografò comunque cammarata nei suoi anni triestini devo dire la verità la prima cosa che fotografava erano le ragazze questo è un dato di fatto c'è una galleria di bellezze triestine non da poco poi gli piaceva gli piacevano ecco c'è un bellissimo reportage sulla pescheria quindi all'interno della pescheria le facce dei pescatori queste cose qua quindi anche lì la parte umana della città e poi le cose che possono capitare le cose buffe le cose dentro l'università ecco non ha mai fotografato cose di guerra non ha mai fotografato macerie non ha mai fotografato nulla che avesse a che fare con la guerra ci sono fotografie a colori che in quegli anni erano una rarità sì sono quelli del 54 di quando Trieste di quando l'Italia è tornata a Trieste e lui ovviamente era tra le autorità del palazzo della prefettura quindi con una vista sul mare e lui a colori ha fotografato l'arrivo delle navi italiane Marilli cammarata in chiusura di questa puntata l'archivio fotografico è a disposizione possiamo lasciare qualche notizia utile a chi ci segue allora l'archivio di mio padre quindi non è solo fotografie ma è anche materiale dell'università eccetera eccetera è notificato e quindi in quanto tale è aperto a tutti su richiesta ovviamente quindi anche le foto ovviamente in chiusura di questa puntata dedicata ad Angela Ermanno Cammarata nella quale abbiamo seguito il filo della pubblicazione di Marilli Cammarata Angela Ermanno Cammarata punti per una biografia editoriale scientifica Napoli in chiusura ringraziamo l'autrice per essere stata con noi grazie a voi buon proseguimento grazie e Lorenzo per la contestualizzazione storica le ricerche che ci hanno permesso anche di capire l'ambiente la storia il momento all'interno del quale si mosse Angela Ermanno Cammarata buon proseguimento